Natascia Danieli Poi ha pubblicato anche diverse cose e conosce benissimo l'ebraico e ha anche studiato in particolare un altro cabalista dell'area veneta, Ramchal, l'acrostico, Moshev. Chekhaim Luzzatto, su quale sono stati fatti due convegni che abbiamo anche raccolto tutti e due in un unico volume, che è qui presente. E poi comunque adesso non sto a elencare tutti i meriti di Natascia, che tra l'altro ha anche aiutato, collaborato, perché non è che si trova tanta gente oggi che sa leggere le grafie corsive ebraiche, magari dei registri di Mantua o di Venezia. E adesso lei ha collaborato, ha fatto dei lavori per cercare di mettere un po' di ordine, capire, fare un'inventariazione anche di questi registri comunitari, tantissimi, a Mantua e poi anche a Venezia. E comunque continua a lavorare, insomma, nel campo, così, degli studi ebraici. E quindi siamo molto contenti di darle la parola per sentire che cosa ci racconta in relazione al convegno, che come intende appunto Ricchi, il rabbino oggi oggetto di questo convegno, il concetto di creazione e autocontrazione di Dio, Tzimtzum, nella Kabbalah settecentesca, all'interno della Kabbalah settecentesca, come si colloca il caso del rabbino Ricchi. Bene. Allora, nel ringraziare tutti coloro che mi hanno invitato, il Comune di Cento e Saverio Campanini, non posso non dire che è un compito assai arduo quello che mi è stato affidato. E per dirlo non posso che citare Gershon Scholem, che a tutti è ben noto, che scriveva nella sua opera più importante, Le grandi correnti della mistica ebraica, che l'idea dello Tzimtzum ha avuto una parte di primo ordine nella scuola luriana, inducendo a ripetuti tentativi di una più approfondita interpretazione. Una storia di questa idea, a partire da Luria, fino ai nostri giorni, rappresenterebbe una delle più affascinanti esposizioni dell'originale pensiero mistico ebraico. Non si può, però, non sottolineare quanto questo argomento sia vasto e di difficile trattazione, anche se si limita questa trattazione al Settecento, come vogliamo fare noi oggi. Partirò comunque, per forza di cose, dal Cinquecento, perché chiaramente non possiamo parlare dello Tzimtzum senza fare una premessa a che cosa intendeva Luria per Tzimtzum, perché da Luria si parte, tutti i cabalisti partono, in particolare quelli italiani, sia nel Seicento che nel Settecento, ma anche nell'Ottocento, per parlare chiaramente dello Tzimtzum. La parola Tzimtzum si può tradurre, appunto, letteralmente con le parole contrazione e concentrazione. Tuttavia, la dottrina dello Tzimtzum abbraccia uno specchio ben più ampio di significati, dovuto all'immenso e continuo sviluppo che questa teoria ha avuto, appunto, nei secoli. Secondo Scholem, il più importante cabalista del Cinquecento, Luria, appunto, scoprì la dottrina dello Tzimtzum in un piccolo trattato del XIII secolo, quindi non sarebbe un'invenzione di Luria. Ma è solo con Luria, però, che questa teoria acquisì un'importanza straordinaria. Attraverso la formulazione della sua cabalà, Luria ha influenzato qualsiasi pensiero cabalistico, successivo e a lui contemporaneo. E alla base della sua teoria creazionistica, egli pone proprio questa teoria, secondo cui l'esistenza del mondo è resa possibile, attenzione, da un processo di contrazione di Dio. Concetto non facile da esprimere. Secondo questa dottrina, infatti, lungo dall'essere un processo verso l'esterno, un uscire di Dio verso l'esterno, il primo passo della creazione è piuttosto un ritrarsi di Dio. Si tratta di un paradosso molto complesso e molto difficile da accettare, sia per i contemporanei, sia per coloro che a Luria seguirono. Ma è un paradosso che Luria elabora per rispondere a interrogativi difficili. Come può esistere il mondo quando l'essere di Dio è dappertutto? Come può Dio creare dal nulla, se non può esservi un nulla, dato che il suo essere penetra ogni cosa? Secondo Luria, Dio si ritirò da se stesso, entro se stesso, e con questo atto, abbandonando una parte dentro di sé nel vuoto, fece spazio per i mondi futuri. Ad un certo punto, all'interno della luce dell'Ensof, venne meno l'essenza divina, o luce. Ma ritirandosi tutto intorno, nella profondità dell'Ensof, cioè l'infinito, Ensof, infinito, scusate, e se lo sciò uno spazio vuoto al centro. In rapporto con l'Ensof infinito, questo spazio vuoto è un puntino, un puntino piccolissimo. Ma il rapporto con la creazione, cioè con i mondi, ok, che ne seguirono, è uno spazio cosmico. Dio può manifestare se stesso solo perché si è ritratto e ha contratto se stesso. Questo spazio primordiale, attenzione alla terminologia, perché poi la terminologia è una terminologia che ritornerà in tutti i cabalisti. La terminologia però è differente, pochissimo, cioè ogni cabalista poi fa come una specie di quello che noi chiameremo un aggiornamento, un aggiornamento della parola, la arricchisce o la impoverisce o la spiega in modo diverso. Questo spazio primordiale, comunque, in Luria è chiamato Tehiru. Il Tehiru, quindi, era ancora pieno di tracce, quelle che vengono chiamate Rescimo, della luce superna, poiché la luce divina non si poteva ritirare senza lasciare tracce della sua presenza. Il Rescimo della luce dell'infinito, dell'Ensof, becché non identico a l'Ensof stesso, ha però un potere fortissimo. Secondo Luria, si tratta di un potere santo, benché le radici delle forze del rigore, che poi avrebbero prodotto quelle che Emma ha giustamente chiamato e ricordato Chelippot, le scorie divine, fossero mescolate con la luce. Non posso assolutamente divulgarvi e spiegarvi tutti gli aspetti di questa creazione e autocontrazione di Dio. Vi faccio dei brevi accenni e il mio scopo è quello di provocare la vostra curiosità. La curiosità di leggere i testi. Questi testi, è chiaro che sono in ebraico e che io li ho letti in ebraico, però molti, come ha detto giustamente il professor Perani, sono stati tradotti negli anni. Il professor Busi e Saveri hanno fatto un lavoro enorme sui testi cabalistici e questi testi sono tutti o almeno in parte tradotti, pertanto li potete trovare. Se vi interessano, alla fine del mio intervento vi do i libri dal quale ho tratto le citazioni. Comunque, le scuole luriane differiscono moltissimo sulla questione cruciale dell'origine del male e delle Chelippot. Chaim Vitalm, primo allievo di Luria, fece di tutto inizialmente per oscurare l'ardita concezione del suo maestro che vedeva nella formulazione della creazione un atto catartico in cui l'ensof o infinito si purificava del rigore, del din, l'attente insito in esso, perché si rendeva conto della pericolosità della teoria. Questa dottrina fu, appunto, abilmente celata. Appare evidente, però, che tale spiegazione non esclude i paradossi, compresi, come si è appena detto, già degli allievi di Luria stesso, anzi, fa di questi ultimi punti nodali portanti dell'intera dottrina, cioè, Chaim Vital si preoccupa di questi paradossi, Luria, invece, non se ne preoccupa per nulla, lui teorizza, scrive la sua Kabbalah e non si preoccupa di spiegarla, cioè, scrive, scusate, la predica, non la scrive, in modo come lui ce l'aveva interpretata. Coloro che vengono dopo di lui, è talmente forte il pensiero di Luria che alcuni lo espongono, altri lo spiegano. Allora, che cosa succede? Prima fra tutti, l'idea che l'esilio di Dio, il suo ritrarsi, rappresenta un fondamento per la creazione del mondo, è fortissima. In questo modo, infatti, il primo atto, come ho già detto, non è un atto di rivelazione, non è un atto di svelamento, bensì di occultamento e di limitazione. Solo nel secondo atto, cioè in un secondo momento, Dio, con un raggio della sua essenza, procede fuori di sé e dà inizio alla sua rivelazione, o al suo dispiegarsi come Dio emanatore. La dottrina sostiene, inoltre, che questo atto di contrazione non è un unico fine a se stesso, non è la creazione del mondo e basta, ma è un atto che si compie prima di ogni atto di creazione, di manifestazione ed emanazione di Dio. In questo modo, la dottrina non si applica più solamente all'interpretazione della creazione, bensì diventa un processo cosmico di duplice natura, in cui ogni atto di creazione contiene in sé una tensione, una tensione tra la luce che rifluisce in Dio stesso e quella che scaturisce da Lui. È questa stessa tensione a far sussistere il nostro creato. La lingua di Luria, chiaramente, costituisce già di per sé una questione forte, perché è una lingua immaginifica e antropomorfica e ha solo vato non pochi interrogativi, fra cui il primo è più facile, come un tal modo di esprimersi può essere compatibile con una religione monoteista? In risposta a questa domanda, sul finire del XVII secolo e nel XVIII secolo, si assistette alla formulazione di due metodi ermeneutici contrapposti, coloro che, appunto, interpretavano la dottrina dello Zimtzum alla lettera e coloro che, invece, la interpretavano come una metafora, un'allegoria. In Italia, l'interpretazione della cabala luriana nei secoli XVII e XVIII occupa un posto essenziale. Infatti, in Italia, più che altrove, il divulgarsi del movimento messianico del sabattianesimo sapete tutti cos'è il sabattianesimo? Ok, bene. Accentuò l'importanza dei testi scartati o, scusate, del sabattiano, accrebbe la virulenza della controversia. Nata di Gaza, appunto, il profeta sabattiano accentuò l'importanza dei testi che inizialmente di tal scartò e l'importanza dell'audace allusione che l'intera dottrina dello Zimtzum fosse una catarsi divina, dove lo scopera quello di eliminare le forze del rigore, come una sorta di prodotto di scarto dell'essenza della divinità. Nel XVIII secolo, altro elemento fondamentale, secondo Joelle Anselme, ma anche secondo me, una studiosa francese di cabala ebraica e di rapporti tra razionalismo e filosofia ebraica, le opere cabalistiche, le opere degli autori ebrei italiani, sono tutte influenzate dalla divulgazione del sabattianesimo e quindi dalla pericolosità insita nel sabattianesimo, dalla cabala luriana e soprattutto anche dal razionalismo, dalle prime teorie razionaliste che il mondo maggioritario cominciava a filtrare nel mondo ebraico. È in questo contesto che Josef Ergas, autore ebreo che nasce nel 1685 e muore nel 1730, pubblica nel 1715 a Londra due opuscoli antisabattiani, Tokahat Megulak Wehatzad Nachash, ovvero, in traduzione, Aperto e Rimprovero, un versetto dei proverbi, perché tutte le opere in quel periodo, moltissime opere, avevano i titoli delle opere che erano, costituivano dei versetti biblici, sono versetti biblici che hanno la funzione di essere il titolo dell'opera, e la parte del serpente. E il nostro Immanuel Hayricchi, pubblica, sempre ad Amsterdam, nel 1727, la sua opera Mishnat Hasidim, di cui Emma vi ha ampiamente parlato. Un decennio dopo, nel 1737, Ricchi pubblica un'altra sua opera, Yosher Levav, Cuore integro, Cuore giusto, e nel 1738 viene pubblicata a postuma l'altra opera maggiore di Ergas, Shomere Munim. È evidente, quindi, che la pubblicazione di queste opere caratterizzano una fase fondamentale nei dibattiti che agitavano tutte le comunità ebraiche italiane, e non solo, visto che le opere vengono pubblicate ad Amsterdam, nel XVIII secolo, vale a dire, sulla divulgazione della cabala luriana e sull'aspra controversia tra i sostenitori e gli oppositori del sabattianesimo. Attaccando le radici della stessa eresia sabattiana, Ergas si sforzò di dimostrare che lo Zimzum di Luria non avrebbe dovuto essere interpretato letteralmente, bensì come una metafora progettata per esprimere la transizione dall'infinito al finito e per permettere l'accesso limitato e finito all'esistenza, mentre i sabattiani fanno riferimento ad un'interpretazione letterale dell'atto dello Zimzum. Chiaramente, la maggiore vicinanza di quest'autore, cioè di Ergas, al movimento sabattiano, lo pone in un contesto di opposizione netta, che Immanuel Hayricchi invece percepisce, anche se solo un decennio dopo, in modo più affievolito, meno pericoloso. In uno dei due opuscoli che vi ha menzionato, Ergas scrive, vi cito, Ecco, questo miscredente, intendendo come miscredente il celebre sabattiano Hayun, ha compreso il segreto dello Zimzum letteralmente e ha radicato l'eresia stessa dicendo che se l'insoffo, cioè l'infinito, non è né un inizio, né una metà, né un fine, né una metà, né un fine, come può esistere lo Zimzum se è tutto pieno dello stesso? Quindi ritorna ai problemi originari. La confutazione della lettura letterale dello Zimzum di Ergas continua nella sua opera maggiore, appunto, Shomere Munim, Guardiano della Fede, pubblicata postuma, pensate, con l'approvazione di Immanuel Hayricchi, tra le tante approvazioni degli rabbini di Livorno che l'hanno approvata. Immanuel Hayricchi che poi entrerà in polemica con questa lettura letterale dello Zimzum contenuta del Shomere Munim, perché solo per un decennio, in un decennio, Immanuel Hayricchi ha elaborato una teoria differente, non percependo più il pericolo della lettura letterale contenuta nel movimento sabattiano. Abbandonato lo stile polemico dei trattati antisabattiani, persino Ergas scrive in modo differente e scrive quest'opera in forma di dialogo. Vi dico, è importante anche capire in che forma vengono scritte queste opere, perché nel Settecento le opere in forma di dialogo sono molte, anche il Ramchal ne scriverà una e sono importanti perché sono opere influenzate dal razionalismo, dal cercare di far capire a chi legge, a chi andrà a interagire con queste opere, i concetti e le conclusioni. Chiaramente un'opera di dialogo con domande e risposte semplifica i concetti rispetto a un'opera teorica come può essere l'esposizione della Mishnat Khasdim che abbiamo visto. Per Ergas, qui cito di nuovo, chiunque spera di capire, di comprendere, lo Zinzun fedelmente, in modo letterale, cade in diversi errori e contraddizioni, nella maggior parte dei principi della fede. Non posso qui divulgarmi su come Ergas elabora questa cosa, la elabora in cinque punti differenti e poi in dieci paragrafi. Questo comunque lo scrive Ergas perché ovviamente se si interpretasse lo Zinzun letteralmente ci dovrebbe essere un posto, secondo lui, dove non è presente l'infinito. Secondo questa interpretazione la nozione di Zinzun porta a nuova vita alla teoria creazionistica lineare della prima cabala luriana e la trasforma dialetticamente. Questo disegno di Ergas va letto alla luce del contesto antisabattiano e ha un chiaro significato ideologico, dato che, come vi ho detto, la società del ghetto ebraico percepisce i primi scossoni di un terremoto che quasi lo travolse, il terremoto sabattiano. Negare la realtà letterale dello Zinzun significava, infatti, distruggere uno dei pilastri su cui l'edificio sabattiano si fondava. Nell'esposizione della cabala luriana di Ergas e poi di molti cabalisti del Settecento si compie un passo ulteriore perché, nei cabalisti del Seicento, da Menachem a Zariafano Amoshez Akuto, le esposizioni non contenevano il secondo livello, cioè il livello esplicativo, il livello di spiegazione, ma davano semplicemente la divulgazione della cabala luriana. Su questo aspetto influisce molto il dibattito che vi ho già menzionato razionalista, che influisce sia in Ergas sia, più tardi, in Ramchal, che sentono entrambi l'esigenza di chiarire che la cabala rinvia ad una serie di idee fondate sulla ragione. In Shomere Munim di Ergas l'allegoria è interpretata come il rimedio alle difficoltà poste dalla materialità della lingua cabalistica, quella lingua antropomorfica e immaginifica di Luria di cui vi ho menzionato, e quindi gli fa dire al suo razionalista tutto è allegoria Maschal tutto è immagine Dimion tutto è segno come diceva il rabbino delle forze superne emanate da Dio dove però queste parole sono parole intese in senso cabalistico non intese o meglio possono essere intese in entrambi i livelli intese in senso cabalistico ma anche intese in senso più divulgativo. Benedetto sia il suo nome per dirigere il suo mondo con loro e che sono disegnate con il nome di Sefirot quindi leggendola in altro modo e girando la frase Sefirot sono allegorie immagini segni abbastanza forte come scrittura solo un decennio più tardi quando l'eresia sabattiana sembrava più distante il disegno di Ergas fu criticato come vi ho detto da Immanuel Hayricchi che pur aveva approvato Shomere Munim prima nel suo libro Mishnat Hasidim questo libro di cui non vi dirò molto perché vi è già stato detto quasi tutto o quantomeno il necessario ancora più marcata però la critica di Ricchi si mostra nell'opera successiva Yosher Levav dove l'autore espone le sue opinioni sul significato della cabala luriana e in particolare sul problema dello Zimtzum cioè il cuore dell'opera Yosher Levav è lo Zimtzum la prefazione dell'opera è molto interessante Saverio sarà contento perché i sogni di sogni adesso ne parlo io così completiamo quello che ha detto lui Ricchi indica in quali circostanze fu indotto a scrivere quest'opera e perché la intitolò in questo modo allora cito il primo giorno di Rosh Hashanah 5497 la corrispondenza l'ho fatta io e la prendete come tale 6 settembre 1736 quando mi ero stabilito con la famiglia d'Aleppo in una regione che ha lo stesso carattere di San Zipà che ha la terra di Israele mi svegliai con nella mente il versetto Salmi 81 20 la tua via fu in mezzo al mare i tuoi sentieri dopo le grandi acque e le tue orme non furono riconosciute subito Ricchi cosa dice è una nevoa knaktana perché questi caballisti insomma passate nel termine un filo di egocentrismo ce l'hanno quasi tutti pertanto loro non è che pensano ho fatto un bel sogno loro pensano ho fatto un bel sogno ma che nasconde una piccola profezia d'altronde insomma pensare di essere il figlio insomma comunque a prima vista Ricchi non sembra trarre grande insegnamento da questo versetto fino a quando scrive continua a scrivere in un altro giorno dello stesso mese mi sono svegliato e un altro versetto cadde nelle mie labbra ed esso è il versetto conoscere il Dio di tuo padre e servirlo con un cuore integro è un'anima ansiosa il nostro caballista comincia a riflettere sui due versetti e riflette per un lungo periodo quasi un mese fino al venerdì 5 ottobre 1736 vale a dire il giorno della luna nuova del mese di Eshvan e scrive la mia mente è occupata dalla stessa domanda che si è posto il Maimonide a proposito della scelta e della volontà della conoscenza del creatore come può conciliarsi l'una con l'altra ovvero sia come può l'onniscienza di Dio conciliarsi con la libertà di scelta del creatore chiaramente Maimonide ne aveva parlato ampiamente replicando ad Abraham Ben David di Poschier Ricchi ammette che da anni si sta sforzando di trovare una risposta a questa interrogativa e quindi capiamo il processo che lui ha fatto in questo decennio e afferma da questo sale nel mio pensiero tutti i giorni di occuparmi dell'argomento dello zinzum se è giusto intenderlo in senso letterale oppure no si può esitare tra le due ipotesi nemmeno lui è proprio così certo della risposta e continua un sabato santo il secondo giorno di Eshvan sabato 6 ottobre 1736 quando il Nehuak Tanah dice mi si rinnova caddero due versi nella mia bocca o mi si affacciarono alla mente l'ardore stesso senza conoscenza non è cosa buona e chi cammina in fretta sbaglia strada e la legge della tua bocca viva il meglio di migliaia di monete d'oro e d'argento fine della citazione e di chi ovviamente interpreta questa indicazione come la fine della piccola profezia come un'autorizzazione nonostante la difficoltà chi cammina in fretta sbaglia strada a mettere le sue idee per iscritto e dato che uno dei versetti che lo aveva messo sulla strada della scrittura parlava di cuore integro non può che chiamare intitolare la sua opera appunto Yashir Levav cuore giusto cuore integro e poi completa la spiegazione dicendo che quest'opera è per la sua opera più importante Mishnat Hasidim come l'anima per il corpo allora se la Mishnat Hasidim è nelle sue intenzioni un Mishnet Torah applicato alla Kabbalah o vorrebbe essere un Mishnet Torah applicato alla Kabbalah quindi una spiegazione completa che deve eludere tutti i dubbi che un Kabbalista deve ha quando si pone a leggere i testi kabbalistici di Luria questo significa che per Ricchi l'anima della Kabbala Luriana non può essere non può che essere lo Zimzum perché l'argomento del Yashir Levav è senza dubbio lo Zimzum e a questo punto Ricchi affronta la questione che gli interessa in modo teologico quanto si comprende è che la causa prima è chiamata dei Kabbalisti con il nome dell'Ensof in realtà io qui ho trovato la parola Amitim e sarebbe Kabbalisti veritieri ma mi sembra un po' forte vorrei cercarla in Ricchi se intende proprio Kabbalisti veritieri eh esatto perché in verità l'Ensof è senza fine la sua esistenza la sua unità la sua potenza e la sua provvidenza cioè i suoi attributi divini sono senza fine la trattazione degli Yashir Levav continua appunto affrontando questi attributi divini la esistenza l'unità la potenza la provvidenza e citta il Talmud però dice attenzione però il rabbino sicuramente potrebbe precedere questa citazione che chiunque esamina queste quattro cose meglio sarebbe che non fosse venuto al mondo ciò che sta sopra ciò che sta in basso ciò che sta davanti ciò che sta dietro quindi lui dice io provo tento però è un campo pericoloso molto pericoloso e conclude la sua prefazione riprendendo la prefazione di Chaim Vital Ashara a Kadamot molti mondi sono stati creati emanati formati e costruiti migliaia tutti come fossero uno stanno nel vuoto Halal che è stato evocato e al di fuori del quale non c'è nulla non c'è nessuna creatura al di fuori di quel luogo queste sono le premesse per arrivare secondo Ricchi al vero cuore della questione vi leggo un brano un po' lungo e forse anche un po' ostico cercate di fare attenzione nonostante l'ora tarda quando è giunto il tempo per la sua volontà santa di uscire dalla potenza all'atto per creare i mondi per creare per la prima volta dal nulla un essere lo fa per dare la sua bontà all'essere creato da lui stesso in modo che noi potessimo conoscere la forza della sua potenza egli contrae l'ampiezza della sua forza a partire dalla gloria della sua essenza e ha aperto un vuoto un luogo vuoto rec e non c'è in esso nulla per crearvi un essere dal nulla che conosca la sua potenza e viva della sua bontà per concedere a quest'essere esistenza e stabilità dall'essenza del suo essere internamente ed esternamente e continuando nella sua grande bontà ha fatto uscire una sottile linea a partire dall'essenza del suo essere è come se avesse allungato un suo dito al centro del residuo roshan che rimane nel vuoto halal dello zinzun a partire dalla luce dell'essenza del suo essere quando ha lasciato questo luogo e non continua questa linea da un lato all'altro del luogo dello zinzun bensì vaga nel mezzo come è scritto negli scritti diari è evidente quindi che per ricchi l'atto dello zinzun lo yesh meain non è una metafora bensì è da intendersi in modo letterale è attraverso la luce primordiale concessa da Dio dopo il primo atto di autocontrazione della creazione che il mondo può sussistere e la creazione continuare e ripetersi infinite volte anche Jakob Emden vissuto successivamente quasi due secoli dopo Luria e presso che contemporaneo 50 anni dopo Ricchi interpreta la dottrina dello zinzun come il primo serio tentativo di spiegare in termini concreti la creatio ex nihilo secondo Ricchi e secondo Emden Ergas non ha fatto questo passo successivo di interpretare la creazione come una creazione dal nulla perché la lettura metaforica non lo prevede la polemica di Ricchi contro Ergas apre un nuovo capitolo nella storia della controversia dall'interpretazione letteraria e quella allegorica dello zinzun che non è più quella tra ortodossia e sabbatianesimo ma si svolge tutto all'interno dell'ortodossia influenzato pure Ricchi dal dibattito razionalista egli non si accontenta di allontanare la materialità della sostanza divina se l'ortodossia di Ergas era tutta attesa alla difesa dall'eresia quella di Ricchi invece è un letteralismo privato di ogni elemento eterodosso e attraverso il rifiuto parziale della visione speculativa la cabalà che egli elabora è un ritorno alle sue origini profetiche che si lega profondamente al momento della rivelazione a dispetto della loro comune appartenenza all'ortodossia l'interpretazione dello zinzum di Ergas e Ricchi che in realtà Ricchi fa questa polemica risponde a Ergas ma in un certo senso quasi lo rispetta comunque non entra mai in polemica aperta questo lo dico perché avendo studiato molto a lungo dall'epistoleo del Ramkal la vera controversia contro un rabbino che viene accusato di sapatianismo che viene accusato di essere un falso messia insomma la polemica quando i rabbini la fanno tra di loro si percepisce come tale e viene fatta a suon di lettere responsa in modo molto più forte con delle opere che si rispondono a vicenda insomma ma con diciamo eleganza se vogliamo il già menzionato Ramkal un shekhaim Luzzato nato a Padua nel 1707 morto ad Acco nel 1746 sposta la sua attenzione dall'interpretazione dello zinzum a quella delle sefirot e dell'emanazione del mondo Luzzato elabora una dimensione ulteriore e introduce il modello della profezia biblica quindi state attenti i ricchi era tornato alla profezia partendo dall'analisi del rapporto tra finito e infinito che sono per sua stessa missione difficili da descrivere poiché si tratta di giustificare il passaggio dalla divinità infinita alla materia finita allora quello che io non so e non sono riuscita a trovare è se Luzzato abbia effettivamente avuto in mano le opere di Ricchi perché quello che è certo è che Luzzato si sia confrontato con le opere di Ergas e che Ergas abbia anche letto le opere di Luzzato perché lo scrive pure nelle lettere dice il maestro di Luzzato Isaia Bassagno gli scrive ma insomma io ho letto Ikelalim di questo tuo allievo insomma mi sembrano anche molto non mi sembrano mi sembrano tutte delle ripetizioni di Cordovero mi sembrano prive di vera novità che insomma per noi che Ram Kha lo riconosciamo come un'autorità adesso è un po' forte da sentire comunque naturalmente Luzzato spiega questo passaggio attraverso il concetto luliano dello Zimtzum l'infinito anche per Luzzato ha un numero infinito di aspetti o forze ma l'intelletto umano si può occupare solo di quelli che sono all'origine del mondo la forza da cui è prodotto il mondo subisce una riduzione o Zimtzum tenete all'orecchio che le parole la lingua è sempre la lingua di Luria cioè attraverso i secoli le parole sono sempre le stesse i concetti sono rielavorati ma partono da una base sempre ferma e rinuncia così all'infinità in un'opera di impronta sistematica anche se non composta in forma di dialogo 138 porte di sapienza che si differenzia dagli altri scritti cabalistici di Luzzato perché la base è il Seferi e Zirà il libro della formazione Luzzato scrive e cito dalla traduzione di Busi a proposito della nozione del procedere della sua azione verso l'esterno l'insoff infinito sia egli benedetto desiderò lasciare il proprio infinito e lo trasse a sé attraverso un'azione limitativa dice ciò è chiamato il contrarsi dell'insoff infinito sia egli benedetto ma com'è possibile passare dall'infinito al finito? la risposta di Luzzato è semplice l'infinito conteneva già il finito è la volontà divina a decidere di manifestare questi limiti e attraverso questo passaggio di svelamento la volontà divina che è per la sua stessa essenza al di là di ogni conoscenza si rende conoscibile ovvero secondo un linguaggio cabalistico visibile attraverso questa riduzione viene a crearsi uno spazio vuoto halal nel quale si manifesta la radice del giudizio rigore din che altera la perfezione iniziale la luce infinita resa visibile grazie alla riduzione della forza divina è appunto chiamata reshimu tracce cioè l'impressione roshem di quella infinità questa abilità di rendere in modo sistematico concetti di difficile comprensione ha permesso sia a Ergas che a Luzzato di diventare un riferimento per alcuni movimenti ottocenteschi e qui vado a concludere ho fatto una corsa abbastanza forte è di nuovo un modo per provocare le vostre curiosità e questo è il caso del Tikkun Aklali o dello Zinzum in Achman di Bratlav che voi conoscerete come uno dei movimenti messianici all'interno dei movimenti chassidici che riprendendo forse Luzzato quasi sicuramente tenta di integrare la nozione di Zinzum nella sua visione messianica radicale cito questa luce emanata è detta residuo reshimu della luce primordiale il mistero di tale residuo è denominato luogo di tutti gli esseri già che conferisce loro l'esistenza cosa che non faceva l'infinito tale luogo è vacuo halal e privo della luce dell'ensof già che l'infinito non si trova in esso come all'inizio nel suo approccio Nachman di Brazza ha seguito inizialmente il classico punto di vista cabalistico secondo il quale il Dio creò la sua assenza proprio al fine di consentire la creazione ma poi ampliati all'interpretazione in modo che la nozione della presenza di Dio nella creazione non soppianti completamente la creazione iniziale del vuoto così che il vuoto viene interpretato come esperienza empirica dell'assenza di Dio il movimento Chabad la interpreta in modo completamente diverso o quantomeno con significati diversi perché si rifà all'antilateralismo di Ergas perché sia nei tratti dello Zoar sia negli scritti diari sia benedetta la sua memoria quando chiamano le cose materiali scusate questa è una citazione di Ergas e parlano di eventi corporei con nomi nobili di certo il lettore non deve comprendere che queste cose siano interpretate in modo letterale vensì piuttosto e gli devi dirigere il suo pensiero e guidarlo verso la verità privandola dei gusci delle metafore tenete conto che questo non è un passaggio della Mishnat Hasidim ma dei due opuscoli antisabattiani quindi il movimento Chabad non percepisce più il pericolo di questo tipo di lettura e Schnorzalman di Liadi nella sua nota opera Tania afferma è del tutto impossibile interpretare la dottrina dello Zimzum letteralmente perché è un fenomeno che riguarda la corporeità del santo e che se interpretato in questo modo comporterebbe una divisione dello stesso in Liadi separate ad infinitum bene quanto volevo dirvi l'ho concluso io intendevo come ho detto suscitare la vostra curiosità non intendo dare risposte Luzzato chiaramente si colloca né in una lettura né in un'altra perché i paradossi per questi cabalisti non sono così importanti da risolvere sono delle chiavi di lettura che come tali arricchiscono i pensieri successivi e quelli dei contemporanei perché dai paradossi si vivifica la cabalà si torna a vivere di vita nuova nel pensiero di altri è un processo continuo e quello che ha detto il rabbino stamattina a proposito di Saverio faceva ridere adesso sul ridere perché io l'ho detto allo stesso modo dei cabalisti dire le cose in modo semplice esprimere i concetti in modo semplice concetti estremamente complessi cioè questa lingua antropomorfica questa lingua immaginifica questa cabalà difficile da interpretare se espressa con concetti e con parole semplici può arrivare può secondo me suscitare la curiosità sia del lettore ebreo che conosce la lingua ebraica sia magari del lettore non ebreo il mio auspicio è che questo piccolo convegno abbia suscitato il fuoco e che si possa effettivamente capire se anche il nostro immano il Kairiki nel suo piccolo ha influenzato i movimenti ottocenteschi se è stato letto dall'uttato se si troveranno delle prove in forma di questa commissione anche con il nostro modesto autore bene quindi insomma la conclusione è che non dobbiamo dire cose troppo chiare troppo semplici perché spengono mentre invece più ci sono paradossi più siamo accesi siamo interessati no questo è un commento così sciocco no io se per caso intanto magari qualcuno vuole vedere se rompe il ghiaccio per una domanda se ce ne fosse qualcuna volevo semplicemente ricordare che per le fonti ebraiche pieve in realtà non c'entro però insomma sono così vicini che posso menzionarlo insomma c'è questa parola Arurra perché molti anni fa Saverio scrisse un articolo su Arurra a pieve che vuol dire maledetta no? maledetta pieve perché era morto e negato il figlio di un banchier esatto no? e questa mattina ho risentito questa parola per i due soldatacci che hanno ammazzato Ricchi no? Arurim no? e quindi no questo non vuol dire assolutamente nulla invece io ho trovato cioè volevo semplicemente farvi presente che le pagine più complete più aggiornate più belle su Ricchi penso adesso non ho visto tanti altri studi però come scheda iniziale c'è un repertorio in francese molto bello compilato da Aschersala nel 2007 che è Rabin Ecriven e Metzen Juif in Italy au XVIIIe siècle pubblicato per Bril nel 2007 ho visto che le pagine che lui dedica a Ricchi sono le più aggiornate le più ricche di bibliografia di cose così e lì ho trovato che citava a me come una fonte dicevo ma cosa? e sono andato a vedere in un mio contributo in quegli atti del convegno sugli ebrei a Cento fatto tempori bussilli scopertina verde scuro io elencavo sia manoscritti o frammenti o copiati o che si trovavano a Cento e ho visto che c'è un manoscritto copiato da Avram Rafael Sereni nel 1858 probabilmente a Cento in cui copia alcune preghiere di suffragio da recitarsi sui sepolcri di importanti rabbini Netanel Segre Iosef Eliscia Modona ma anche Emmanuel Kairiki ed altri defunti tumulati nel cimitero di Cento ecco quindi anche questo si potrà vedere questa poesia o questa preghiera per cosa ecco allora non voglio fare domande non vi spaventate no volevo soltanto fare questa osservazione le ultime due relazioni ci hanno proiettato violentemente direi su delle dimensioni assolutamente al di sopra di noi ecco con molta violenza e suscitando molto molto interesse io mi compiaccio per questi studi affrontati non facili affrontati con grande entusiasmo questa è una prova di quanto vi dicevo all'inizio che se vogliamo studiare in modo organico la figura dei ricchi dobbiamo dedicare molto più tempo e anche molta più riflessione sapete che la cabbalà il mondo della cabbalà è un mondo straordinariamente difficile che va affrontato con molta calma dicono che non va affrontato prima dei 45 anni ora con l'aumento dell'età media andiamo a meno a 60 perché intanto è molto difficile poi costituisce un grande pericolo perché è straordinariamente affascinante e quindi può capitare che ci introduciamo in un certo argomento e rimaniamo affascinati poi perdiamo il senso della realtà quindi direi di ridimensionare io ho visto che l'ha fatto anche la signorina che dopo averci portato signora scusi meglio così grazie per l'età forse operani invecchia sempre che dopo averci proiettato in questo mondo etereo si è messo a bere quindi non ha dimenticato le sue dimensioni le sue dimensioni fisiche se no mi torno comunque qualcuno me le fa ricordare a teggiore che c'è non è colpa mia ecco dicevo questo allora io spero che ci rivediamo non troppo in là nel tempo per riprendere questo discorso con più calma elaborando le idee che oggi ci sono state fornite vorrei concludere in contrasto con l'amico Mauro che più volte ha citato la parola arur arurim arurà la maledizione io viceversa in contrasto con l'arurà pieve maledetta sia pieve io concluderei con berrujà cento sia benedetta cento che ci ha dato questa occasione è giusto il prossimo convegno sarà sicuramente a cento e se da pieve arriveranno delle iniziative sì noi le rispingiamo grazie 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 grazie